per iniziare questa grande maratona musicale e per farvi vedere quanto sono bravi i ragazzi e quanto cantano bene. Diamo il via alla gara e partiamo dalla regione Lazio, lei ha l'hobby dell'equitazione, è nata a Frosinone, ha sei anni ed è la vincitrice della tappa di Ferentino Madonna degli Angeli, si chiama Alessandra Rotondo. Vieni, vieni Alessandra, ho dimenticato una cosa, fate lungo l'applauso, fate lungo l'applauso, lungo, 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 grazie. Allora perché, cosa ho dimenticato? Ho dimenticato una cosa importantissima, i ragazzi ogni volta che partecipano a piccole stelle e cantano scrivono dal profondo del loro cuore una frase, una frase destinata ai bambini che vengono sostenuti dal progetto Unicef. Questa è la tua frase amore? Sì, vuoi leggerla? Non lo so leggere. Ve la posso leggere io? La ricchezza più grande è quando si dona, Alessandra Rotondo. Sei pronta a cantare amore? Sì, davvero? Vogliamo andare? Che ci canti stasera? Delle donne 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 al mondo. Signore e signori, apre! La terza edizione di Piccole Stelle Cantano, Alessandra Rotondo con Girotondo intorno al mondo. Se tutte le ragazze, le ragazze del mondo, si dessero la mano a tutti i ragazzi del mondo, si dessero la mano, si dessero la mano, allora ci sarebbe un giro tondo intorno al mondo, intorno al mondo. E se tutti i ragazzi, i ragazzi del mondo, volessero una volta diventare marinai, Allora ci sarebbe un grande ponte, con tanti parche intorno al mare. merda! E se tutta la gente, si dessero la tensione, non si dessero la mano, se tutta la gente, si dessero una mano, si dessero la mano, si dessero una mano, il mondo a tutti i ragazzi del mondo. odisse del mondo, allora ci sarebbe un giro tondo, intorno al mondo. E tutto il mondo E se tutta la gente Si tesso una mano Se il mondo veramente Si tesso una mano Allora ci sarebbe un giro tondo Intorno al mondo Intorno al mondo Si tesso una mano 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 Allora ci sarebbe un giro tondo Ed eccola qua la nostra grande artista Perché di questo parliamo Allora a lei Allora mi devi aiutare Perché guarda Ho un attestato dell'Unicef E l'Unicef ti ringrazia per aver partecipato Tieni E poi Questa è la partecipazione a piccole stelle Ok? Non è che è finita qua Dopo dobbiamo vedere se hai vinto Tu che dici? Com'è andata stasera? Com'hai cantato? Bene Davvero? Grande Ciao Perché sono anche molto critici Sti ragazzi Ehm Ciao 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 Grazie a tutti